Fede Giorgi, la lezione di giovedì ha servito un 3-0 secco per la Lube che era priva di Oswani. Sì, sicuramente ci siamo preparati a giocare di nuovo una partita lunga, nel senso di battagliare. Abbiamo avuto una buona continuità, abbiamo giocato con una formazione diversa, mettendo Leal al posto di Oswani come posizione in campo con giri, anche Diamantini che ha giocato, Dragan. Insomma, credo che possiamo essere soddisfatti per la continuità del gioco che abbiamo avuto. Sono tre punti. Squadra nuova, risultato secco 3-0. Sì, ma credo che questa è una squadra nella quale ci sono tanti giocatori, tutti sono importanti, come hanno dimostrato anche Massari nella partita precedente. Tutti avranno occasione. L'importante è avere questo modo di stare uniti e quando qualcuno viene chiamato in campo, insomma, di dare il suo contributo. Cosa ha fatto la differenza oggi? Ma oggi siamo stati abbastanza continui noi. Non abbiamo dato a loro opportunità di rientri particolari, nel senso che abbiamo sempre tenuto un buon livello di gioco, abbiamo limitato alcune cose loro, riguardo anche all'opposto, alcune situazioni. Quindi credo che la continuità del gioco ci ha dato poi questi frutti. Dragastankovic, partiamo dalla tua prestazione, una prestazione impeccabile in attacco. Va bene, me l'hai detto tu, io non sapevo prima di questa intervista, però penso che metto a parte la mia prestazione stasera e devo sottolineare la prestazione di tutta la squadra. Direi che abbiamo imparato abbastanza dell'ultima partita e a parte il primo sede, dove all'inizio abbiamo fatto un po' fatica, e gli altri due, da subito abbiamo messo sotto controllo e con tanti punti di differenza era molto più facile giocare contro questa formazione di Monza. Enrico Diamantini, un 3-0 secco per questa lube e soprattutto che sensazioni hai provato, visto che era un pezzo che non riessordivi nello starting six? Sì, una partita molto importante, siamo riusciti a partire un po' con fatica, poi invece ci siamo ripresi e abbiamo giocato bene per tutto il resto della partita. Sì, era da un po' che non giocavo, però mi alleno continuamente e quindi cerco di essere pronto più volte che posso.